di qualcosa di intelligente è un po' più pescino se lì faceva freddo qua ci marcano solo le gocce di condensa gelate sulla schiena mamma mia che freddo che vorrei sottolineare così di passata che questa è la madaglieria della prima guerra mondiale i soldati ci passavano l'estate, l'inverno questi posti bellissimi aspettando di farsi ammazzare degli austriaci dall'altra parte andiamo sempre in galleria e si sale si sale è umidissima con la propria acqua adesso si prevede tutta questa discesa per poi risalire non 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 Saluta Henry, Henry probabilmente sta pensando a tre o quattro modi per tratturarmi stanotte. Ed è un po' d'acqua, questo è caldo, c'è un altro beleno, non esageriamo, è un vestito per l'avare. no no stu cosa siamo più o meno a 2950 metri di dislivello per finire la ferrata ce ne ranno ancora tipo circa 100 ma non è finita qua perché ce ne saranno altri 150 di sentiero sicuramente ripidissimi gli sfasciumi per arrivare in cima alla Tofana di Rogers e sono ben le due e mezza andiamo giù così a questo punto qua salverò a marinaio come la definisco io sul bagnato mi sono minimamente in grado di tenere questa scivola ci sono di bestia scusate per le scenate ma ho dovuto davvero forzare scusate per me porca racchia e la coda uff ragazzi è lunghetta è davvero lunga 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 quella dovrebbe essere la cima ragazzi direi che la serrata è finita bisogna fare solo questi 200 metri di dislivello per arrivare in cima grazie a tutti